È chiaro che dovrebbe essere potenziato un sistema di prevenzione, un sistema di prevenzione che possa dare ai giovani un messaggio utile. Alessandro Rossi, esperto in materia di sicurezza privata, esprime la sua opinione in merito ai fatti di Piazza della Badia e dalla parte di chi con la Movida ci lavora non ci sta a criminalizzare un intero settore. Non mi piace la parola ma la Movida, perché la Movida serale e notturna è anche fonte di guadagno per tanti esercenti e poi di aggregazione e di vicinanza per i giovani. Se non c'è una conoscenza capillare della piazza, della popolazione che la frequenta e delle strutture che la circondano, diciamo che possono essere fatti interventi a prossimo. Ora, io non voglio dire che le piazze sono come i locali notturni e vanno gestite in uguale maniera, ma andrebbe messo in atto un sistema capillare di controllo. Educati in maniera giusta, ma per educati non significa metterli a scuola, ma controllati da personale che sia idoneo e comprenda quelle che sono veramente le criticità e prevengano certe situazioni in base alla loro esperienza. Importante è anche l'atteggiamento da parte della sicurezza privata. Insomma, un vecchio adagio, prevenire è meglio che curare. A volte il tuo atteggiamento, la tua impostazione può creare un'ulteriore problematica. Quindi l'importante è comprendere e capire chi hai davanti, prevenire le situazioni, perché non avvengono all'improvviso, ma c'è dei sentori precedenti e quindi sta all'operatore riuscire a intuire e capire e andare subito, prima che accada qualcosa, a pianificare anche una tranquilla prosecuzione di quello che è, sia il concerto che qualsiasi altra manifestazione. E questo lo trovo e lo imposto ai nostri operatori perché i risultati parlano da sé. Quindi possiamo fare chiacchiere di ogni tipo, ma quello che conta poi è il risultato finale. Il risultato c'è e siamo ben contenti. Attualmente siamo anche impegnati a un festival internazionale che è qui nella provincia, di una società inglese che è abituata a fare concerti con Elton John e quant'altro, e si sono rivolti a noi come fanno anno dopo anno perché hanno trovato questa metodologia nostra operativa vincente e valida.